Nella provincia di Bat noi stiamo osservando quel famoso appiattimento della curva, il plateau. Cioè abbiamo raggiunto un picco, adesso i numeri sono abbastanza costanti, aspettiamo da un momento all'altro di vedere una discesa. Ci vuole un po' di pazienza. La conferma arriva dall'assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco durante l'incontro con i sindaci e i consiglieri regionali della provincia Bat ospitato ieri sera nella sede del Partito Democratico di Barletta. Il picco dell'epidemia nella regione Puglia spiega è ormai stato raggiunto e dentro la fine della settimana inizierà la discesa della curva dei contagi esattamente come sta avvenendo nel resto d'Italia. Una situazione in progressivo miglioramento che non renderà più necessario chiedere al governo l'istituzione di una zona rossa per le province di Poggia e Bat. La situazione pugliese ha qualche caratteristica che in questo momento ci sta facendo in qualche maniera dipingere come una regione che sta andando in controtendenza rispetto al resto delle regioni d'Italia per un fatto molto semplice. L'epidemia in Puglia è partita dopo, è partita due o tre settimane dopo quella delle altre regioni, soprattutto delle regioni del nord. Quindi mentre nelle regioni del nord già si sta osservando un netto decremento della curva noi siamo nella fase in cui abbiamo appena superato il picco, quel famoso picco di cui tanto si è parlato durante la prima ondata. La nostra curva epidemica si sta stabilizzando e stiamo andando verso la fase discendente. Chi è che ci dice che stiamo andando verso la fase discendente? Sono i numeri, cioè il famoso R. Il dato dell'RT che è inferiore a 1 significa proprio questo, che oggi noi abbiamo una situazione in cui il numero dei contagi che noi ci aspettiamo nelle prossime settimane sarà sempre decrescente. Ora, come giustamente ha detto il Presidente Emiliano, insieme al Presidente Emiliano noi qualche settimana fa avevamo chiesto anche al Governo eventualmente delle misure un po' più restrittive per le province del nord della nostra regione, la Bat e Foggia, dove i contagi stavano crescendo ad un ritmo leggermente superiore rispetto al resto della regione. Ovviamente chiedere oggi una zona rossa ha meno senso, perché i risultati li vedremo fra due settimane, quando ormai immaginiamo che la curva sia discendente. Però qualunque sia la decisione del Governo in termini di classificazione, perché nel momento in cui l'RT scende al di sotto di 1, l'automatismo di questo famoso algoritmo ci collocherebbe probabilmente anche in zona gialla, il nostro messaggio è chiaro, il nostro messaggio è chiaro, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare in modo che la curva dei contagi non riparta. In questo momento abbiamo i primi segnali di allentamento in termini di pressione sulla rete ospedaliera, non dobbiamo perdere questo minimo vantaggio che abbiamo, che siamo riusciti ad ottenere grazie al sacrificio di tutti. Per la normale influenza, il cui picco è atteso tra i mesi di gennaio e febbraio, sono disponibili oltre un milione di vaccini. La regione ne aveva ordinati il doppio, spiega Lopalco, ma le aziende produttrici non riescono a far fronte all'eccesso di richieste. Addirittura abbiamo aggiudicato 2 milioni e 100 mila dosi di vaccino, quando normalmente in Puglia ogni anno al massimo vengono distribuite 700 mila dosi. Il problema è che questa forte richiesta di vaccinazioni non può essere soddisfatta dalle aziende che fino a questo momento hanno consegnato la metà di quello che noi avevamo richiesto. Comunque sia abbiamo distribuito più di un milione di dosi, cioè noi abbiamo distribuito comunque un numero di dosi molto superiori a quello dello scorso anno. Quindi tutto il vaccino che noi stiamo riuscendo a recuperare sul mercato lo abbiamo distribuito e i medici e i medici generali stanno facendo di tutto per soddisfare le richieste.